Paura nella serata di ieri nel parcheggio della Scuola Penna in località Taverna Battipaglia, dove un camion che conteneva fuochi pirotecnici è esploso per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati volontari della protezione civile di Battipaglia con gli istintori in dotazione agli automezzi per evitare il coinvolgimento delle altre autovetture e per isolare l'area interessata dall'esplosione. Aggiungere sul luogo dell'accaduto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri che hanno provveduto a recuperare i fuochi inesplosi, il cui utilizzo era previsto nella nottata al termine della festa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Sempre nella giornata di ieri la protezione civile di Battipaglia è intervenuta in località Castelluccia, dove un ruogo ha interessato un cumulo di rifiuti.